Un saluto a tutti voi, bentrovati all'ultimo appuntamento con la nostra informazione. In apertura parliamo di sanità perché dopo le polemiche, qualche incomprensione dei giorni scorsi, torna a essere in funzione il servizio di chemioterapia alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. A tirare un sospiro di sollievo sono soprattutto i pazienti e le associazioni di volontariato. Ora il tema diventa quello della riduzione dei posti letto, un problema sollevato anche dall'arcivescovo di Campobasso Bregantini. Tagli ci saranno, ha detto il governatore Frattura, ma non nel servizio di oncologia e in quello di cardiochirurgia. Vediamo. Il nostro grido di dolore è stato ascoltato. Quelli davvero contenti per la decisione di riconoscere la chemioterapia tra le prestazioni di assistenza specialistica in ambulatorio a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono i pazienti. La loro voce è arrivata attraverso le associazioni di volontariato Iris e Armida Barelli, amici della Cattolica, che hanno ribadito che chi poteva e doveva agire lo ha fatto. Non sappiamo, hanno scritto nella loro lettera aperta, se abbiamo solo contribuito ad accelerare un percorso già avviato oppure se la decisione è stata presa in seguito alla nostra denuncia. Non ci importa, hanno aggiunto. A noi interessa solo che i malati possano tornare a curarsi alla Cattolica, che offre prestazioni di altissima qualità. Il decreto numero 51, firmato dal commissario ad acta, porta la data del 7 agosto e mette nero su bianco il disciplinare che regola l'erogazione per iniezione o infusione in regime ambulatoriale di sostanze chemioterapiche per tumore. Un elenco di farmaci ha elevato costo, alcuni nell'ordine delle migliaia di euro, la cui tariffa viene del tutto rimborsata. Ma al di là dei tecnicismi, il commissario ad acta, Paolo Frattura, ha spiegato che qualche confusione si è creata per la mancata conoscenza del suo ultimo atto deliberativo, quello del quale si stanno occupando, oltre che i giornalisti, i vertici della fondazione Giovanni Paolo II, i medici, le associazioni di volontariato, i pazienti e perfino l'arcivescovo di Campobasso che ha ritenuto di specificare che non tanto da notizie affrettate ma da constatazioni ben calibrate e purtroppo fondate, è stato necessario alzare la voce. Nessuno di loro sapeva di un decreto firmato il 7 agosto e notificato alla fondazione Giovanni Paolo II solo nella tarda serata di ieri, tre giorni dopo, tanto che questa mattina i volontari hanno trovato disponibile il servizio di chemioterapia. Cosa fatta a capo A anche se i volontari di Iris e Armida Barelli puntando al bersaglio grosso chiedono nella loro lettera aperta ciò che Bregantini ha già messo in luce da tempo. Chiediamo, ha ribadito l'arcivescovo richiamando alla memoria la manifestazione popolare a difesa della Cattolica del 2011 che il rispetto del territorio sia il primo criterio nell'assegnare risorse. Notiamo con amarezza, ha aggiunto, che la più penalizzata è proprio la Cattolica che garantisce un servizio cardiochirurgico e chemioterapico di altissima qualità. Un tema fatto proprio dalle associazioni. Ci auguriamo, dicono, che la notizia circolata in questi giorni di una forte riduzione dei posti letto non sia fondata e che la Cattolica possa continuare a essere un fiore all'occhiello del Molise. Tagli ci saranno a messo frattura ma questo non interessa né l'area oncologica né quella cardiochirurgica e la scure resta al momento sospesa. Il presidente Iorio chiede le dimissioni di frattura. Per l'ex governatore, l'attuale presidente della Giunta, non è in grado di dare soluzione ai problemi del Molise e per questo motivo deve farsi da parte. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Mentre il centrosinistra e il presidente della regione Paolo Frattura festeggiano il riconoscimento dell'area di crisi che dovrebbe risolvere alcune delle emergenze occupazionali del Molise ma il condizionale è d'obbligo, il capo della minoranza di centrodestra, Michele Iorio, incalza il governatore su tutte le questioni non risolte e chiede le sue dimissioni. Un governatore che non accetta nessuna critica reagisce in malo modo a qualsiasi considerazione che non sia in linea con il suo pensiero, se non che non si riesce mai a capire qual è il suo pensiero. Su tutte le questioni principali che dovrebbe affrontare e che il Molise aspetta che si risolvano non c'è il pensiero di frattura né l'idea di come risolvere i problemi. Lei ha puntato il dito anche sui conflitti di interessi del governatore. Ma questo è il condimento di una politica che non ha senso, che non ha sbocchie, non ha prospettive. Certo, ha prestato il fianco frattura a molte interpretazioni che riguardano i potetici conflitti di interesse ma su nessuna questione ha chiarito fino in fondo come stanno le cose. E credo che non si possa essere disposti a tollerare oltre questo stato di cose, questo silenzio su tutte le questioni che gli sono state contestate. Abbiamo assistito al possibile smantellamento di una prospettiva incredibile che è la infrastruttura autostradale del Molise, che da sola può restituire competitività al territorio, altre che chiacchiere o altre iniziative. Oggi se fosse stato aperto quel cantiere stavano lavorando tante persone e si apriva la possibilità di completare l'opera con il piano per il sud. Se è vero che il sud dovrà avere nuovi fondi destinati. Voglio dire, accadono cose all'interno di un'aggiunta che opera in maniera anomala, a mio giudizio, molto spesso usurpando anche i poteri del Consiglio e introducendo dei dubbi e degli elementi di conflitti, di interesse, di incompatibilità, ma su tutti i settori. Basti dire che per seguire la soluzione della GAM si è utilizzato un consulente che è stato autore della richiesta di concordato di Arena. Questo, come tante questioni che abbiamo sollevate, non ricevono risposta. Assistiamo al degrado della politica e purtroppo assistiamo anche al declino della nostra regione. Intanto però Frattura ha incassato il riconoscimento dell'area di crisi. Prima di enfatizzare questo come un grandissimo risultato ci sarebbe bisogno di capire e di vedere quali sono le soluzioni perché l'area di crisi può essere un formidabile strumento per una ripresa, ma non una ripresa di qualcosa che c'è. Io purtroppo ho qualche dubbio che quello che c'era ci sarà ancora per il futuro ed è per questo che bisognerebbe parlare chiaro. Non fumo negli occhi ai molisani promettendo l'Eden, Mare e Monti con uno strumento operativo come quello del riconoscimento dell'area di crisi, ma indicazioni e soluzioni concrete sulle specifiche situazioni. Lei è convinto della richiesta di dimissioni per il governo regionale per Frattura? Ma ci sono tutti gli elementi, gli elementi amministrativi per quello che non si sta facendo. Intanto abbiamo una giunta monca perché è stato arrestato un assessore e anche su questo io credo che la risposta di Frattura sia stata quantomeno una risposta elusiva dei veri problemi che sono sul tappeto, ma non tanto per la questione giudiziaria in corso, ma per il fatto che si è tollerato che una giunta rimanesse in tre, magari può rimanere pure con uno solo, visto che usano decidere per telefono le delibere di giunta, senza che nessuno si preoccupasse di sollecitare una soluzione. Bisognava ricomporre immediatamente la giunta. C'è un governatore che ritiene di saper far tutto e poi oltretutto si permette di offendere alla minima critica che gli si rivolge. Questa è una situazione intollerabile. La Regione si costituirà parte civile nei procedimenti penali a carico di diversi consiglieri regionali che sono stati in carica tra il 2007 e il 2011, per i quali si ipotizza il reato di peculato nell'ambito delle indagini sulle cosiddette spese pazze dei gruppi consigliari. Secondo l'accusa si sarebbero appropriati senza pertinenti e giustificate ragioni parte delle somme da ognuno ricevuto a titolo di contributi per il funzionamento dei gruppi, utilizzandole invece per fini diversi e non riconducibili alla specifica destinazione della legge. Torniamo a parlare di sanità perché ci sono buone notizie anche per l'ospedale Caracciolo di Agnone. Riaprono le camere operatorie e ora associazioni, comitati e comune puntano a un obiettivo più importante, quello di ottenere dal governo il riconoscimento di ospedale di area disagiata. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Quando ormai non ci credeva più nessuno è arrivata la buona notizia. Le sale operatorie dell'ospedale di Agnone sono state riaperte. Oggi sono stati effettuati i primi interventi che fanno sperare in un futuro meno cupo per il Caracciolo. Certo, ci sono voluti quasi otto mesi per effettuare lavori di messa in sicurezza che richiedevano solo poche settimane, ma l'importante è che si sia evitata quella chiusura definitiva che in buona sostanza avrebbe condannato a morte il presidio. La riapertura delle sale operatorie è stata accolta con ampia soddisfazione dal sindaco Michele Carosella e dall'Aggiunta Comunale. Ma ora c'è un altro e più importante risultato da raggiungere, l'approvazione da parte del tavolo tecnico governativo del piano operativo della Regione Molise, all'interno del quale il San Francesco Caracciolo è configurato come ospedale di area particolarmente disagiata. In questa direzione stanno finalmente giungendo segnali di apertura, fanno sapere gli amministratori agnonesi. Anche il comitato articolo 32 si augura che questo risultato venga raggiunto al più presto, ma soprattutto che parole e buoni propositi vengano messi in nero su bianco, ha detto Armando San Martino. Per l'esponente del comitato è importante siglare al più presto l'accordo di programma con la Regione Abruzzo, ma al tempo stesso occorre effettuare un'operazione di rilancio, spiegando agli utenti dell'Alto Vastese che in realtà l'ospedale non è affatto chiuso, continua a garantire diversi servizi, nonostante l'organico ridotto all'osso. E in effetti anche quella del personale carente, ha concluso San Martino, è una questione che va affrontata e risolta al più presto. E continuiamo in qualche modo a parlare di sanità, ma lo facciamo nell'ambito universitario, perché la Facoltà di Medicina dell'Ateneo di Campobasso è quinta in graduatoria nella classifica stilata dall'Unità. precede anche colossi come la Cattolica e la Federico II di Napoli. Sentiamo. L'Università del Molise scala la classifica anche con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nei test per l'accesso alla specialistica post laurea. Infatti, i giovani medici dell'Ateneo molisano si piazzano al quinto posto assoluto nella graduatoria, preceduti nell'ordine solo dalle Università San Raffaele di Milano, Verona, Udine e Salerno. La classifica dei 40 Atenei italiani che dispongono dei corsi di laurea in Medicina attesta in generale la prevalenza dei giovani medici del Nord a scapito delle Università Meridionali eccezion fatta per Salerno, Molise e Federico II di Napoli che però si colloca al diciottesimo posto nelle ultime tre posizioni Catanzaro, Palermo e Foggia mentre l'Università Cattolica del Sacro Cuore è nella top tenne e precisamente al nono posto distanziata però di quattro lunghezze da Unimolle. La classifica riportata nei giorni scorsi dal quotidiano L'Unità si riferisce ai testi relativi al 2014 per l'accesso alle specialistiche post laurea e secondo i primi dati di quest'anno l'Università del Molise potrebbe ancora migliorare la sua posizione. Dunque le diverse statistiche continuano a dimostrare che l'Unimolle è sempre di più competitiva nel panorama nazionale nonostante le ristrettezze economiche e i tagli decisi dal Governo a danno delle piccole università. Andiamo ora a Montenero di Bisaccia per parlare delle proposte dei gruppi di minoranza sui temi del lavoro e della viabilità cittadina. Il servizio è di Fabrizio Occhionero. Un incontro con i cittadini per presentare gli emendamenti al bilancio di previsione. I consiglieri di minoranza del gruppo Montenero Vince Nicola Dascagno e Valentina Bozzelli hanno criticato i contenuti del documento contabile contestando le scelte dell'amministrazione Travaglini. Due le emergenze segnalate per il Paese il lavoro e la viabilità partendo anche dalle lamentele dei residenti. La strada dove sono, esce di casa tutti i giorni devo mi tenere per scendere, è pericolosa. Per la sistemazione delle strade dissestate è stato presentato un emendamento di 200.000 euro. Loro si chiedono ma a fronte dei nostri sborsi noi mettiamo mano al portafoglio ma quali servizi abbiamo? Io direi non sono servizi indivisibili trattasi di servizi invisibili perché il cittadino non ha la percezione di questi servizi perché ogni giorno si batte per avere un diritto assicurato la tutela di questa zona bellissima che è la zona storica. Dascagno si è soffermato sull'emendamento che riguarda le proposte per il lavoro pari a 780.000 euro. 25.000 euro per ogni cooperativa per ogni società per ogni associazione di lavoratori che dovessero nascere a tasso zero perché di questo c'è da utilizzare la fiscalità di vantaggio con iniziative che riguardano naturalmente i settori tipici, autocloni di questa realtà quello agroalimentare quello dei servizi quello della tutela dell'ambiente quello della tutela della salute ed anche innovazione e creatività. Anche oggi il maltempo ha colpito molte zone della regione acquazzone temporali si sono riversati anche a Campobasso le immagini si riferiscono proprio ai punti più complicati della città dove in pianura l'acqua ha creato più di qualche problema a Sant'Antonio dei Lazzari la strada è stata interrotta per alcuni minuti per consentire di rimuovere i detriti che si erano accumulati davanti all'ingresso della caserma dei vigili del fuoco molti cittadini si sono rivolti proprio ai vigili del fuoco per liberare l'acqua dalle cantine e dagli scantinati e loro stessi hanno avuto qualche problema proprio davanti alla sede della caserma a questo proposito l'amministrazione comunale di Campobasso ha deciso di spostare a data da destinarsi il servizio di disinfestazione che per due giorni era previsto oggi e domani in città sarà lo stesso comune a comunicare la nuova data e a Campobasso è stata presentata e siamo alla pagina degli eventi dell'estate la diciannovesima edizione di Noi Artisti di Questa Terra in programma a Montorio nei Frentani sentiamo Anna Maria Di Matteo diciannovesima edizione per Noi Artisti di Questa Terra manifestazione che si svolge a Montorio nei Frentani un vero e proprio evento che ogni anno porta nel piccolo borgo del Molise e personalità che si sono distinte nel mondo dello spettacolo della cultura e del sociale e nella lotta alla criminalità il ricco programma è stato presentato a Campobasso all'ex GIL dal direttore artistico Antonio Molino anche quest'anno abbiamo preparato diciamo un grande evento regionale Noi Artisti di Questa Terra che è una manifestazione che premia e riconosce tutti i personaggi gli artisti che si sono distinti nel campo dell'arte e della cultura in genere e poi come sempre noi portiamo un grande evento nelle piccole comunità è l'intento della nostra associazione Noi Artisti di Questa Terra di portare i grandi eventi nelle piccole comunità il nostro obiettivo è quello di valorizzare quindi non solo i personaggi molisani che si sono distinti però poi anche quelli che si sono distinti nel campo diciamo nazionale per impegno sociale, politico, artistico quest'anno per esempio abbiamo degli ospiti veramente straordinari abbiamo la presenza di Don Maurizio Patriciello che conoscono tutti sappiamo le battaglie che sta facendo quindi non poteva mancare nella nostra manifestazione l'abbiamo invitato lui ha accolto il nostro invito quindi lo avremo quella sera parleremo di queste tematiche importantissime quindi è una gioia per noi ma non solo, ci sono tanti altri artisti sia dal campo, dal punto di vista musicale anche della cultura scientifica Il Vaionte di tutti è anche a Montorio Nefrentani Sì, grazie a questo inaspettato e graditissimo riconoscimento è una storia non semplice da raccontare soprattutto in un tempo nel quale la vita non è semplice per le persone quindi raccontare non una tragedia ma addirittura due quella del Vaionte e quella di San Giuliano non è stato per niente semplice e la sensibilità di questi organizzatori è arrivata davvero a nocciolo della questione inaspettato e graditissimo È un evento di alto livello come negli anni passati è da vent'anni che questa manifestazione ormai rappresenta la polarità della cultura molisana ha raccolto tantissimi artisti tantissimi personaggi illustri è nata per questo per valorizzare gli uomini i personaggi che hanno dato lustro al nostro Molise il Comune da sempre sostiene questa manifestazione con un impegno economico abbastanza consistente la mia amministrazione si contraddistingue per il fatto che dedica 20.000 euro della spesa corrente ad attività e manifestazioni culturali e non è da tutti Quindi investe sulla cultura? Crediamo nella cultura perché la cultura se non si guarda alla cultura quale prospettiva di sviluppo di arricchimento non si va da nessuna parte La manifestazione si svolgerà giovedì 13 agosto a partire dalle ore 21 Andiamo ora a Fornelli dove invece è stato presentato il cartellone degli eventi di giornate al Borgo ce ne parla Sergio Di Vincenzo Per due giorni nel centro storico di Fornelli si torneranno a respirare atmosfere medievali ma oltre ai costumi d'epoca alle botteghe degli antichi mestieri e cavalieri agli spettacoli dei giocolieri e alle musiche dei menestrelli le giornate al Borgo quest'anno alla ventunesima edizione sanno proporre sempre qualcosa di nuovo Proponiamo una grandissima novità ciò da dire l'assalto alle mura a chiusura della prima serata il giorno 13 agosto a mezzanotte è un evento che rievocherà praticamente l'assalto dei Saraceni in tutta la Valle del Volturno che si è verificato nell'881 d.C. Ci sarà prima in questa piazzetta il professore Antonio Orduino che relazionerà appunto su questo evento così importante della nostra storia e poi noi cercheremo a chiusura appunto della prima serata di rievocare e di inscenare nuovamente questo episodio troveranno dei bellissimi spettacoli a partire dalle 19 come ogni anno quindi vale a dire il corteo storico lo spettacolo di pistonieri di Cavatirreni il palio delle contrade e poi all'interno troveranno l'allestimento di botteghe di antichi mestieri tantissimi spettacoli in tutte le piazzette e ovviamente poi come al solito come è ormai consueto da ormai sei anni proporremo a chiusura delle due serate quindi il 14 agosto a mezzanotte e mezza l'incendio del castello i visitatori troveranno un centro storico ancora più accogliente grazie ai cospicui investimenti dell'amministrazione comunale e all'impegno degli stessi residenti di anno in anno il cuore del paese sta cambiando volto gran parte del lavoro è stato eseguito quindi già questa piazzetta dove ci troviamo l'anno scorso non c'era dal punto di vista della pavimentazione dal punto di vista della sistemazione altre piazze sono state realizzate abbiamo già provveduto ad ordinare più di 40.000 euro di aree d'urbano sono stati rifatti tutti sotto servizi il centro storico si presenta in una veste nuova anche se non completa però in una veste nuova questa è la volontà dell'amministrazione di voler investire e puntare sul centro storico adesso c'è bisogno di un cambio culturale come ho detto dal punto di vista dell'approccio alla tutela alla valorizzazione del centro storico e questa è una grande mano dovranno darcela i cittadini e tutti coloro che amano il centro storico di Fornelli e a causa del maltempo è stato rinviato a giovedì lo spettacolo Saul di Vittorio Alfieri per la regia di Stefano Sabelli che era in programma ieri l'associazione amici del teatro di Pietrabbondante si scusa con il pubblico dunque appuntamento per giovedì alle 19 e 30 e parliamo adesso del connubio tra Italia e Argentina all'insegna del tango nel Domus Area Festival che è in corso a Bagnoli del Trigno ce ne parla in questo servizio Giuseppe Carriera unire cultura e divertimento gusto e curiosità il Domus Area Festival in svolgimento a Bagnoli del Trigno nelle sale nella piazza all'aperto della Domus Area fino a settembre propone una lista di appuntamenti musica, teatro passeggiate sotto le stelle serate a tema tra queste una delle più attese era quella con protagonista Vincenzo Abascià ballerino, coreografo protagonista degli show dal vivo di Biagio Antonacci la serata si è sviluppata in un parallelo gastronomico tra Italia e Argentina a tavola due proposte un menù interamente a base di pesce ed una sequenza di piatti a base di carne ispirati alla tipica tradizione argentina siamo molto affini al popolo argentino per cui questa sera diciamo partiamo alla grande se vogliamo usare questo termine per questo agosto che sarà ricchissimo di eventi culturali ma anche e noi gastronomici perché uno dei punti di forza di Domus Hotel Calice Rosso è anche la valorizzazione del territorio con i prodotti tipici quindi con una cucina e con una enologia abbinata rivisitata ma senza violenza sui piatti antichi io dico attualizzata io dico soltanto innovazione e tradizione mentre i sapori conquistano gli ospiti è il fascino del tango a tenere la scena Abascià con un gruppo di cinque ballerini racconta l'origine l'evoluzione e il significato profondo del tango non una danza codificata non solo passi ma la testimonianza delle emozioni e della tradizione di un popolo Passione del tango non è solo il tango argentino portato in scena portiamo una novità portiamo appunto il tango argentino mescolato unito alla danza unito alla danza contemporanea alla danza classica e ho provato nella speranza che al pubblico sia gradita la cosa ho provato a unire il tango argentino con una danza latinoamericana che è la rumba quindi diciamo abbiamo provato il più possibile a rendere uno spettacolo più variegato possibile in modo tale da non annoiare prima di tutto il pubblico ma cercare di portare una novità sulla scena i colori disegnano i contorni di uno show elegante che si incastona nel contesto da cartolina alle spalle e lo spettacolo nello spettacolo è la notte raffinata in attesa delle stelle cadenti atmosfera tutta marinara invece al Cala Sveva Beach Club di Termoli dove è diventato un vero e proprio punto di riferimento non solo per la spiaggia e per il mare ma anche per la movida e la e l'happy hour dei dj di Radio Luna sentiamo Fabrizio Occhionero Migliaia di turisti affollano la costa nei giorni clou dell'estate per tanti giovani e non solo la parola chiave è solo una divertimento per condividere una serata coinvolgente in una location elegante con una clientela selezionata il Cala Sveva Beach Club si conferma un punto di riferimento una formula che avvolge l'intero arco della giornata e convince sempre di più grazie a un progetto lungimirante che vuole spingersi oltre la stagione la musica che piace richiama presenze anche da fuori regione ospiti di livello e proposte sempre nuove per far battere più forte il cuore della movida termolese al Cala Sveva Beach Club il DJ Tony Loreto il ritmo inconfondibile dell'House Music alla console continua a lavorare su diversi progetti e remix di artisti famosi di Ritme & Blues Lavoro per una grande multinazionale nel campo della moda e dell'abbigliamento e nulla sono tornata dopo un anno in Molise ho scelto di venire a Termoli in vacanza quindi Termoli ti piace e immagino ti piace molto Cala Sveva sì sì certamente certo è un posto chic divertente molto simile all'eleganza e al lusso che respiro in Cina è un luogo vicino a dove abitiamo e lo frequentiamo da sempre e mi è sempre piaciuto come posto e quindi come location la ritenevo ideale e quindi è molto bello come posto quindi era l'ideale per fare una festa di laurea lo conoscevo però torno sempre volentieri insomma è un luogo positivo che migliora di anno in anno devo dire offre comunque un'alternativa estate 2015 Cala Sveva e ci si diverte non solo di notte ma anche di giorno con il DJ set di Pietro Rama e l'appuntamento con l'Happy Hour per l'occasione sono stati distribuiti anche gli originalissimi gadget firmati Radio Luna dalla spiaggia al cocktail bar e la buona musica che sprigiona un mix coinvolgente un'iniziativa riuscita che si inserisce nell'ampio ventaglio di proposte offerte al Cala Sveva Beach Club di Termoli e le sorprese che non mancheranno ovviamente anche a Ferragosto uno sguardo agli appuntamenti di domani prima di salutarci a Ripalimosani torna la tradizione con il palio delle contrade alle Quercigliole per festeggiare la Madonna della Neve la gara nel pomeriggio ma già di mattina in centinaia raggiungeranno come sempre la località le porte di Campobasso per la tradizionale scampagnata San Martino in Pensilis artisti nel borgo giocolieri mangiafuoco fachiri a partire dalle 21 l'evento prevede anche stand gastronomici organizzato dalla Proloco la Gallicciola nello stabilimento di Sant'Elena Sanita invece festa del tartufo principe ci sarà naturalmente spazio per la gastronomia con menu caratterizzati dal tartufo e poi le esibizioni dei comici Paolo Cagliazzo e dell'orchestra Mario Riccardi a Gambatesa seconda serata della 26esima edizione del festival della canzone dialettale a partire dalle 21 è tutto anche per l'ultima edizione del nostro telegiornale che andrà in replica per tutta la notte fino al prossimo appuntamento in diretta con la rassegna della stampa grazie per essere stati con noi e a voi tutti buonanotte grazie per la notte grazie per la notte